Allora Gino, ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Vai, mischia. Ok. Ora voglio vedere quanto tempo tu impieghi a separare il mazzo per semi, cioè tutte carte di fiori, tutte carte di quadri, tutte carte di picche, tutte carte di cuore. Va! Ok. Farle in velocità è molto... molto difficile. Stavendo... Gino sa che dobbiamo riprendere a fare un po' di palestra pure. Eh! Qua a Solacciano. Dov'è? Dov'è un po' di broglia a fare questo? Ok, ci siamo. Va beh, metti, non so, i quadri sui fiori, vai. Ok. E giro il tuo... e metti i cuori sui picche. A posto. Giro? Si, giro, giro. Senti, ci hai messo pure troppo tempo. Eh, va beh. Vuoi vedere che ti insegno un metodo diverso, molto più veloce? Va bene. Ok. Fai due rosette. Mischia. Vado. Ok. Ok, paglia tutto il mazzetto. Ok. Senti. Ora, taglia una decina di carte dove vuoi tu. Hai una possibilità, vuoi scegliere quella sotto qua o quella sopra? Senti. Ok, prendila e mettila da parte, gira la faccia in alto. Qua? Si. Oh, un nastro. Vai, posa. Chiudi. Adesso taglia verso la fine. Così non puoi dire che ti faccio selezionare nello stesso posto. Sotto o sopra? Sopra. Ok. Prendo. Prendi, gira la faccia in alto. Ah, una carta. Ok. Chiudi. Adesso prendi una decina, 12 carte, vedi un po' tu. Senza guardarle. Si. Dove pensi siano rosse le metti sulle rosse, dove pensi siano nere le metti sulle nere. Vai. Vado. Facciamo un test. Si. Gira la prima della striscia dove dovrebbe essere rossa. No, c'è una carta nere. Già non ci siamo. Vabbè, facciamo una cosa. Allora, prendi questo mazzo, taglielo a metà. Ok, mischia. Ah, forse un po'... Ma no, sapevo così. Mischia bene quello là. Mischialo. E mettilo qua da parte. Ok. Anzi, mettilo qua, al cibo. Di faccia. Faccia l'altro. Al centro. Prendi quest'altro. Stendilo al nastro. Scegli una qualsiasi carta. Io però spero che tu la possa scegliere rossa. Pensaci intensamente. Quella la vuoi cambiare? No. Girala. Oh, rossa. Mettila là. Chiudi. Ora dove pensi siano nere le metti nere. Dove pensi siano rosse le metti rosse. Così. Ok. Tira via. Lascia solo la carta guida. Metti le faccia in alto sopra queste. E lasciale là. Da chiudi tutte queste. In queste invece, molto diversamente. Giriamole faccia in alto una alla volta. Quindi così? Sì. Rossa, 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 rossa e rossa. Continua. Nera, 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 nera e nera. Stendi con ditino quest'altra. Dove c'è la rossa sono tutte rosse. Gira quella. Dove c'è la nera sono tutte carte nere, signori. E non puoi dire che le carte non si sono mescolate. Perché se andiamo a stendere quella centrale, possiamo dimostrare che le carte sono mescolate. di questo mondo. Noi. Ciao.